e prego chiamare al centro sul palco Ciro Salvo, Franco Pepe e Francesco Maltucci. Sono i primi tre dell'ottor Sanno e sono i primi tre. Anche quest'anno vediamo qual è stato il verdetto dei nostri ispettori. Partiamo dalla posizione numero tre. Prego la slide. Terzo classificato, Shabat Galò Ciro Salvo. Grazie, complimenti. Grazie. Vieni qua, Francesco. Allora, Italia e Coppie e Bartali, no? Vabbè, per i più giovani che posso dire, non vi vede, sento, io, Mosè e Sarondi, ma posso arrivare. E comunque questi sono due grandi campioni. Vai con la seconda posizione. Prego, seconda posizione. Alberto, ma che hai combinato? La seconda posizione non c'è. Non c'è quest'anno la seconda posizione. Grazie. Grazie. Grazie! Grazie a tutti. Grazie. Grazie